L'annunciata riduzione fiscale, compresa la tassa sulla prima casa, dà parte del governo Renzi l'intervista al ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Il governo Renzi si appresta, almeno secondo le intenzioni, l'anno prossimo, nel 2016, ad avviare una progressiva riduzione delle tasse, soprattutto in riferimento alle tasse sulla casa. Voi avete subito commentato, si tratta della realizzazione di un programma prettamente di centro-destra. Sì, è il completamento del nostro programma. Credo che gli italiani ricordino che quando è nata questa legislatura, noi abbiamo chiesto come Popolo della Libertà, allora, l'eliminazione della tassa sulla prima casa e siamo ancora a quel punto. Cioè, noi stiamo realizzando all'interno di questo governo le battaglie classiche, storiche, dei moderati italiani. Le faccio un breve elenco. La eliminazione della tassa sulla casa è l'ultima diventata di attualità. Poco fa lei mi chiedeva di una legge sulle intercettazioni ed è un'altra storica battaglia nostra. La responsabilità civile dei magistrati, ma soprattutto la eliminazione dell'articolo 18, la diminuzione dell'IRAP, quella che noi chiamavamo l'imposta rapina per 6 miliardi, oppure zero tasse per i nuovi assunti per tre anni. Cioè, queste cose che ho appena citato, eccetto le intercettazioni e la tassa sulla casa che sono in fase di discussione in Parlamento, le intercettazioni e la tassa sulla casa fa parte del programma autunnale, tutte le altre sono già in gazzetta ufficiale e sono già leggi. Insomma, questa è la prova che abbiamo visto giusto nell'autunno del 2013, quando rompendo con Berlusconi e separando la nostra strada con Berlusconi abbiamo detto ma non possiamo consegnare il paese nelle mani di Grillo, dobbiamo fare un governo che realizzi le istanze dei moderati italiani. Ce la stiamo facendo, dobbiamo andare avanti perché questo paese è un paese che ha ancora una speranza di ripresa. Noi la stiamo incrociando, in tutto il mondo c'è stata una gravissima recessione, stiamo per cominciare a vedere dei bagliori di luce in fondo al tunnel e noi non possiamo interrompere oggi questo percorso virtuoso. Del resto cosa abbiamo dalle altre parti? Abbiamo un Salvini che dice che bisogna uscire dall'euro, che bisogna uscire dall'Europa, che bisogna ritirare tutti i soldi dai Bancomat come è successo in Grecia, che va presso a Zipras. Insomma, io credo che questa sia veramente la strada giusta per il futuro del nostro paese.